ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo breve video o breve forse non lo so comunque allora volevo dire che praticamente un paio di giorni fa mi sono svegliato di notte e mi sono messo a giocare a neverwinter praticamente erano tipo luna e mezza due di notte mi sono svegliato appunto mi sono messo a giocare mentre loggo faccio un qualcosina tipo giro dpg alla fine mi scrive un amico mio mi chiede se voglio fare vos e gli dico che va bene prendo il chierico nel mentre che lui fa gruppo io faccio le mie cose inizia vos partiamo e niente tutto bene diciamo le solite cose solite cose normali no voi sapete che ogni tanto il gioco può server del gioco può andare in rosso verso il basso e di solito quando è così cosa succede il gioco si riavvia e dovete praticamente rilogare il vostro pigino niente arriviamo praticamente al terzo boss al terzo superiamo praticamente il secondo boss e ovviamente dopo il secondo boss nella volta stellata c'è la parte del labirinto il mezzo no niente a un certo punto mentre andiamo avanti praticamente arriva arrivo a questo cosa del server verso il basso io dico così perché va in down praticamente e quindi niente ci sbatte fuori e praticamente solita cosa e riloghiamo ovviamente mi aspetto di rilogare dentro il dungeon e invece no mi sono ritrovato praticamente a sharandar nella mappa di sharandar inoltre ero in gruppo con gli altri ragazzi e io guardavo che praticamente loro erano tutti e quattro alle enclave e niente era praticamente impossibile tornare a dentro il dungeon praticamente e quindi niente ecco volevo solo dirvi questa cosa che il gioco mi ha cacciato dal gioco dal dungeon senza possibilità di poter rientrare ecco comunque adesso vi lascio le immagini del video vi renderete conto da voi di quello che è successo allora qui siamo nella parte del labirinto come dicevo qui stiamo per attraversare il cespuglio quindi andiamo in play siamo nella seconda parte del labirinto come vedete spawno percorro il tragitto che bisogna fare attraverso anche il secondo cespuglio e poi mi accorgo che il mio compagno è entrato in combattimento quindi decido di tornare indietro torno indietro giusto in tempo per salvarlo credo se non mi ricordo male vediamo ok da una curetta l'ho salvato e come vedete inizia a correre sul posto ciò vuol dire che sta crashando in alto possiamo vedere il server verso il basso e mi disconnete dal server al che ovviamente ci riporta sulla schermata iniziale del gioco adesso aspettiamo un attimo che carica e come vedete mi dà la scritta gioca riloggo il più velocemente possibile col chiarico anche se non mi sembra di stare a rilogare la semente non clicco non so perché cosa sto aspettando boh forse non mi faceva cliccare boh non mi ricordo comunque vediamo ecco clicco carica la schermata di gioco mi aspetto qui di entrare dentro il dungeon perché comunque ero dentro e invece mi carica nuova sharandar la mappa in cui mi trovavo mi trovavo prima di entrare dentro il dungeon al che mi sono insospettito detto dio no vuoi vedere che mi ha buttato fuori no ho detto boh se mi ha buttato fuori speriamo che mi rinvitano gli riscrivo e mi rinvitano dentro il dungeon no quindi carica la mappa e adesso appena carica vedrete che il gruppo ecco qua mettiamo in pausa non so se si legge aspetta un attimo perché apro subito la chat e quindi si diventa trasparente ecco come vedete qua tutti i miei compagni sono all'enclave del protettore enclave 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 ed enclave quindi lì mi sono insospettito subito e mi sono detto allora se mi ha buttato a me asciera andare allora l'enclave ci ha buttato fuori tutti di conseguenza ci ha fatto abbandonare il dungeon io scrivo lol da qui ciao come vedete poi ricarica qua non so perché ok no niente qui era finito il video perché come è successa sta cosa ho registrato il video in modo da postarlo su youtube niente ragazzi quindi questo è un nuovo bug del den di neverwinter del dungeon della volta stellata niente vi auguro che non vi capiti quindi detto questo volevo solo farvi appunto vedere questo nuovo bug niente ci sentiamo al prossimo video oppure ci sentiamo al prossimo bug ciao 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 ciao